supertruck attento peter stai bene? ti è scoppiata una gomma? oh no! come farai a consegnare tutta la posta? chiederai aiuto a supertruck? questa è una grande idea! ehi jeremy! puoi chiamare supertruck? peter ha una gomma a terra e ha bisogno di aiuto per consegnare la posta ehi carl! stai aspettando qualcosa? oh! stai aspettando un nuovo cappello per posta? beh! giusto appunto! peter il furgone della posta ha bisogno di aiuto per le sue consegne! puoi aiutarlo? oh! oh! quale trasformazione andrà bene per aiutare peter? oh! oh! questa è una nuova trasformazione? un super furgone postale? forte! non vedo l'ora di vederti! oh! motivi! godendale! modelo! mo enfin! lo ma lo ma lo ma abbiamo wow sei diventato davvero un super furgone postale andiamo ad aiutare peter ehi peter supertruck è qui per aiutarti a consegnare la posta in tempo per prima cosa ti serve una gomma nuova bene sei pronto per andare supertruck ti aiuterà a consegnare i pacchi peter farà una parte delle consegne mentre farai l'altra da cosa si comincia carl va bene andiamo oh carl non hai neanche il tempo di fermarti hai un sacco di posta da consegnare dove si va dopo carl finito peter e tu supertruck ti rimane soltanto un pacco ma non sai dove devi portarlo diamo un'occhiata al gps non sta dicendo dove andare il pacco è per carl beh allora sono certa che supertruck troverà il modo di consegnarglielo ci vediamo presto peter arrivederci carl grazie mille wow guarda penny che vola attraverso il cielo buongiorno penny che cosa stai facendo oh stai trasportando merci per carl e hai un'altra consegna da fare subito dopo questa oh no penny attenta no penny ha colpito il terreno così forte che una delle sue ruote si è rotta oh povera penny guarda c'è ember e carl penny ha le tue merci carl ma non sarà in grado di consegnare le tue ember si è ferita cosa faremo buona idea penny carl potrebbe chiamare supertruck ad aiutarci wow un passaggio segreto e porta al tuo rifugio segreto oh 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 fantastico andiamo adesso dal momento che non siamo vicino all'aeroporto dovrai usare questa strada come pista ma non ci sono case o automobili qui quindi è perfetta pronto per il decollo stai volando supertruck ehi c'è frank guarda c'è matt ha appena fermato un'auto in fuga andiamo a prendere in consegna le merci eccoci supertruck bisogna prendere queste scatole per amber grande ora torniamo all'aeroporto guarda carl questo è l'aeroporto amber e penny ti stanno aspettando penny amber dovremmo vedere supertruck da un momento all'altro è già partito da tempo grande atterraggio supertruck adesso scarichiamo gli scatoloni guarda penny ci sono i medicinali di cui amber ha bisogno per curarti eccoti a posto penny ti senti meglio adesso arrivederci penny ottimo lavoro supertruck grazie per aver salvato la situazione e ringrazia carlo da parte nostra quando lo vedi ciao ciao buongiorno lili buongiorno bambini state giocando a seguire il leader perché questi visi imbronciati? è il pipapo? oh avreste dovuto andare al parco acquatico oggi ma è chiuso per manutenzione che brutta notizia fa così caldo che non si riesce nemmeno a giocare perché non chiamate supertruck? lui di certo si inventerà qualcosa ehi papù? oh avreste dovuto andare al parco acquatico oggi ma è chiuso per manutenzione ehi papù? oh avreste dovuto andare al parco acquatico? oh avreste dovuto andare al parco acquatico? oh avreste dovuto andare al parco acquatico? ehi carl! lilli voleva portare i bambini al parco acquatico ma oggi è chiuso fa così caldo! puoi aiutarli? grande! andiamo! in cosa ti trasformerai oggi, carl? un po' di nuovo! wow super truck sei diventato un parco acquatico su ruote presto andiamo avete tutti la protezione solare? super truck è qui e ha una sorpresa visto che oggi non potete andare al parco acquatico il parco acquatico è venuto da voi è tempo di divertirsi bambini rinfreschiamoci un po' pronti? partenza? via! che stupenda giornata è diventata grazie per aver reso tutto così divertente e super truck godetevi questa bella giornata di sole alla prossima amici ciao clavi come stai oggi? stai andando a car city? oh no! che cosa è successo flavi? puoi provare ad avviare di nuovo il motore? povera flavi povera flavi sembra che il tuo motore si sia surriscaldato chiamiamo tom ciao tom meno male che ti abbiamo trovato flavi ha bisogno del tuo motore flavi ha bisogno del tuo aiuto il suo motore si è surriscaldato e ha bisogno di essere rimorchiato al tuo garage puoi venire? bene forza andiamo su col morale flavi tom è qui per aiutarti ben fatto ora andiamo al tuo garage forza tom ce la puoi fare sta calma flavi tom sta facendo del suo meglio oh mamma ma cosa faremo ora? bella pensata tom chiamiamo super truck flavi rimani qui tornerò tra poco carl qualcuno a car city ha bisogno di te in quale veicolo ti trasformerai oggi carl? giusto un super carro attrezzi è quello che ci vuole che ci vuole Wow, Super Truck! Sembri così grande e potente! Forza Super Truck! Andiamo ad aiutare Flavi prima che si arrabbi ancora di più! Ciao a tutti! Super Truck è qui! Ti porterà via di qui Flavi! Hai ragione Super Truck! Faremo meglio a togliere le travi in modo che Flavi sia più leggera da trainare! No Flavi! Super Truck non ha detto che sei pesante! Ha detto che le merci sono pesanti! Una volta che ti avremo alleggerita saremo a posto! Sì sì, Super Truck sta facendo attenzione alla tua carrozzeria! Oggi siamo scontrose! Ecco fatto! Ci vediamo al garage di Tom! Eccoci! Ce l'hai fatta Super Truck! Grazie per aver salvato la situazione! Ti senti meglio ora che sei al garage Flavi? Che cosa c'è Tom? Sembri triste! Ah, sei preoccupato che Super Truck diventi un concorrente e ti porti via i clienti? Super Truck ha ragione Tom! Non porterebbe mai via i tuoi clienti! E poi non può essere un carroattrezzi tutto il tempo, vero? Così va meglio! Arrivederci a tutti! Ci vediamo la prossima volta! Ciao!